Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del Crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che, a volte, mi hanno rubato il cuore, e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte, dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano, in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la Baia di Valintus, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto, o per meglio dire, una categoria di prodotti, che sono certo piaceranno sia ai giocatori che ai collezionisti dei diversi TCG presenti nel palcoscenico mondiale. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del Crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia la miglior selezione di Inner Sleeve, versione Sealable, presenti sul mercato. La Dragon Shield, come sempre, rappresenterà il punto di riferimento per questi prodotti, dato che proporrà agli appassionati tre articoli diversi, atti a soddisfare ogni esigenza. Le Perfect Fit Clear, ad esempio, si presenteranno, come suggerisce anche il nome, totalmente trasparenti, e grazie alla loro linguetta richiudibile, senza utilizzo di colle, andranno a proteggere a 360 gradi la vostra carta da qualsivoglia fattore esterno causa di danni. In più, una volta sistemato l'elemento all'interno di questo prodotto, potrete servirvi di qualsiasi bustina protettiva, senza incorrere in fastidiosi cambi di posizione della Perfect una volta inserito il tutto nella Sleeves. Per quanto riguarderà invece la versione Smoke, il prodotto risulterà essere pressoché identico, sia per meccanica che per struttura. L'unica differenza risiderà nella parte dorsale dell'inner, che, in questo caso, presenterà un fondo scuro che celerà parzialmente la parte posteriore della carta. Consiglio quindi l'acquisto di questo articolo soprattutto ai giocatori, che con il supporto di queste bustine non rischieranno richiami in sede di torneo, per sospetti trasparenze che potrebbero agevolare il giocatore nella pescata, o altro, sempre meglio partire prevenuti ed evitare problemi. Per chi invece gioca a Yugi, anche qui ci sarà la rispettiva versione, ideata e realizzata su misura per le carte di formato Japanese. Il funzionamento sarà lo stesso delle appena menzionate Sealable, infatti anche in questo caso il prodotto vedrà una linguetta da inserire nella parte bassa della stessa, così da garantire difesa a tutto tondo alla carta che avrete deciso di proteggere. Articoli davvero meravigliosi, che personalmente mi hanno fatto dimenticare la presenza delle altre Perfect presenti sul mercato, e l'utilizzo smodato che ne faccio credo si sia anche visto dalle live che sono state fatte qui sul canale, dato che moltissimi di voi, commenti alla mano, mi hanno chiesto dove trovarle. Ma non finisce qui, dato che credo di aver trovato un nuovo amore in casa, Gamegenic. La ditta tedesca ha realizzato delle nuove Sealable che personalmente trovo molto più comode, per diversi fattori. Infatti le Closable Inner Sleeve presenteranno l'ingresso della bustina di fianco, essendo a tutti gli effetti delle side loading, ovvero con caricamento laterale. La cosa che più mi ha colpito di questo prodotto, comunque, è la facilità di inserimento della carta all'interno della Perfect, che vedrà un'altrettanta comoda sistemazione della linguetta richiudibile, che non andrà in alcun modo ad incastrarsi con le pareti della bustina stessa, cosa che invece con gli articoli della Dragon Shield accade. In più, la carta, quando verrà inserita, sarà spinta dal lato forte, ovvero quello più largo invece che dalla base, la quale più volte mi ha fatto prendere spaventi, credendo di aver rovinato la rara che stringevo tra le mani causa piegatura della superficie. Arconte, ma quindi sono meglio le side che le tradizionali Sealable? No. Entrambi i prodotti rappresenteranno per me una validissima scelta da utilizzare, sempre e soprattutto per proteggere le carte più rare della vostra collezione o deck. In fin dei conti, se si porrà attenzione a quel che si starà facendo, agendo con calma e pazienza, non si verificherà alcun danno ed il vostro tesoretto personale verrà assicurato nel migliore dei modi. Prima di concludere, come sempre, vi lascerò in descrizione i link per ogni prodotto che è stato menzionato in questo contenuto, così da darvi la possibilità di scegliere quali dei quattro si adatterà nel migliore dei modi alle vostre esigenze. Questi accessori sono davvero i migliori sul mercato e ne consiglio vivamente in utilizzo, per non avere più pensieri una volta che avrete protetto ogni carta del vostro deck o collezione, all'interno degli articoli qui presenti. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!